La genialità di Vivaldi sta nel fatto che è riuscito a rendere amabile stagioni dure come l'autunno e l'inverno. Diciamo che la sua musica ha illuminato tutto. Oggi entra la primavera, facciamo entrare la primavera dentro di noi, perché restare a casa non basta. Facciamo una donazione alla Fondazione Comasca.